Tornerà ad allenarsi oggi l'Accademia Licata. La società del neopresidente Bruno Vecchio scenderà sul sintetico del Dino Liotta che ieri è stato reso impraticabile dalla concomitanza con il concerto del cantante Rocco Ant. I ragazzi di mister Alberto Licata effettueranno una seduta atletica. I carichi di lavoro stanno man mano aumentando per permettere di portare la squadra in condizione in vista dell'avvio della stagione agonistica. A livello di mercato è attesa breve l'ufficializzazione del portiere. Dovrebbe trattarsi di un atleta giovane e che già negli anni scorsi è stato nel giro della società Gello Blu. Intanto si registra la prima defezione per quanto concerne l'aspetto societario. L'imprenditore Giuseppe Licata ha infatti smentito di essere uno dei soci e ha semplicemente affermato di aver dato un contributo senza però ricoprire alcuna carica societaria. Nei prossimi giorni è attesa la definizione dell'organigram che verrà con ogni probabilità comunicato nel corso di una conferenza stampa.